L'esame obiettivo dell'addome si esegue con la paziente sdraiata in posizione supina e completamente rilasciata con le braccia lungo il corpo. Il medico si porrà alla destra della paziente. Iniziamo, come al solito, con dei reperi anatomici. Noi possiamo immaginare l'addome suddiviso essenzialmente in quattro quadranti da una linea condotta dall'apofisi ansiforme dello sterno fino alla sinfisi pubblica, linea xifo-ombelicale e una linea ideale, questa volta trasversa, che passa direttamente per l'ombelico. Avremo così quattro quadranti, due superiori e due inferiori dell'addome. Ma a dire il vero per comodità, l'addome viene diviso dal punto di vista semeiologico in nove regioni e prolungando la linea emiclaveare, che quindi parte dal punto mediano della clavicola, prolungandola a livello dell'addome, dalla parte destra e dalla parte sinistra, si otterranno tracciando due linee orizzontali, una che passa praticamente sugli archi costali della decima costa, tra sinistra e destra, e una che parte dalla spineliaca anteriore superiore sinistra e raggiunge la spineliaca anteriore superiore destra. Ecco, l'intersezione dei due prolungamenti delle linee che vanno dalle emiclaveari con le due linee trasverse genereranno nove regioni che si chiamano ipocondrio destro, mesogastrio, ipocondrio sinistro, fianco destro, mesogastrio, fianco sinistro, fossiliaca destra, ipocastrio, fossiliaca sinistra. Possiamo immaginare la proiezione degli organi su queste regioni. È chiaro che ipocondron in greco, l'etimologia di questa parola, quindi ipocondrio, vuol dire sotto le cartilagini costali. E infatti così è, perché il fegato di fatto risale, il margine superiore, addirittura fino al quinto spazio intercostale nelle espirazioni profonde, quindi quando il diaframma si alza al massimo livello all'interno della regione toracica. E così vale per la milza. La milza è un organo che appartiene all'ipocondrio sinistro, però di fatto si trova tra la nona e la undicesima costola dietro le coste. Quindi ecco che di fatto la regione ipocondriaca comprende anche parte dei visceri che sono posizionati dietro gli archi costali. Detto questo, bisogna considerare che nell'ipocondrio destro si proietta per esempio l'angolo colico destro, la colecisti, nella regione epigastrica e la regione pancreatica e coledocica, il colon trasverso. A sinistra, nell'ipocondrio sinistro, parte dello stomaco perché il fondo, la grande tuberosità gastrica, è posta anch'essa dietro le coste a sinistra. Sul fianco destro si proietterà il rene destro e il colon ascendente. Al centro la matassa intestinale. Sul fianco sinistro il rene sinistro, il colon discendente. In fossili a cadestra la regione cieco appendicolare, essendo Simona ovviamente una donna, anche l'ovaio di destra e l'uretere, l'uretere anche nell'uomo chiaramente, e al centro si può proiettare una vescica ripiena di urina, perché se no la vescica non si palpa perché sta dietro alla sinfisi pubblica, e il fondo dell'utero, qualora fosse aumentato di volume, e a sinistra ancora il sigma, l'ovaio di sinistra e l'uretere di sinistra. Passiamo quindi all'osservazione, l'ispezione dell'addome. La prima cosa da vedere è la conformazione. In questo caso Simona ha un addome piano. L'addome potrebbe essere anche tendenzialmente globoso, globoso, oppure addirittura svasato ai lati, come una ranocchia, noi diciamo batraciano, se fosse pieno di un liquido che chiameremo ascite. L'osservazione continua con la cute. Ecco, dobbiamo vedere se ci sono delle smagliature che sono dovute di solito all'assità del tessuto elastico, ma Simona non ne ha. Se ci sono delle formazioni nevo-verrucose, ne vedo qualcuna, ma tutto sommato di scarso significato. Se ci fossero delle discromie, quindi alterazioni di colore, della cute, gli annessi cutanei sono di tipo femminile e completamente in ordine, ovvero sia molto scarsi. Si va a vedere poi se ci sono delle cicatrici chirurgiche e Simona ce l'ha. Simona ha una cicatrice chirurgica in questa zona, che, come abbiamo detto, è la fossa iliaca destra, è una cicatrice chirurgica condotta, secondo McBurney, diciamo noi medici, chirurghi in particolare, ovvero sia in una zona attraverso la quale, attraverso questo taglio, si interviene per togliere l'appendice. Quindi evidentemente Simona ha effettuato un'appendicectomia. Devo descriverla questa cicatrice. Qualunque cosa si nota, si descrive. In questo caso è una cicatrice condotta, secondo McBurney, in fossiliaca destra, ovviamente, ben epitelizzata, vedete, ma sarà anche ben consolidata, che vuol dire? Bisogna vedere se la parete muscolare sotto si è perfettamente chiusa. Se così non fosse, facendo fare una manovra che già dovreste conoscere, la manovra di Valsalva, ovvero sia l'espirazione forzata a glottite chiusa, noi qui vedremo la fuoriuscita di un viscere dalla parete addominale. In definitiva, un laparocele. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che quando un viscere travalica, passa attraverso un canale anatomico naturale, non chiuso dopo la vita embrionale, come potrebbe essere il canale inguinale, allora in questo caso si parla di un'ernia. Si parla invece di laparocele quando un viscere praticamente protrude attraverso il cedimento della parete muscolare che era stata chiusa a seguito di un intervento chirurgico. E quindi faccio un'espirazione forzata a forte di chiusa, quindi spinga come per andare di corpo senza ovviamente andarci. Ok. La ferita è non solo ben epitelizzata, ma anche ben consolidata. Osserviamo poi la cicatrice chirurgica. In questo caso è normo-introflessa. Anche qui facciamo la manovra di Valsalva per vedere se la ferita e se la cicatrice chirurgia anche qui può dare origine alla presenza di un'erniazione. Tutto a posto. Vedete la differenza? Se io avessi trovato un'ernia in corrispondenza della regione ombelicale, una protrusione in corrispondenza della regione ombelicale, avrei parlato di ernia ombelicale, canale che avrebbe dovuto chiudersi. Mentre invece, subito dopo la nascita chiaramente, quindi è un canale naturale, diciamo se vogliamo, mentre invece avrei parlato di laparocele se avessi trovato una fuoriuscita di un viscere attraverso una parete muscolare che ha ceduto nel tempo dopo la chiusura chirurgica fatta, non so in che anno, vari anni fa, quando è stata operata di appendicite. Ecco, un'ultima notazione nell'ispezione possiamo notare l'eventuale presenza di reticoli venosi superficiali che Simona non ha. Che cosa succede nell'addome? Che alle volte si possono formare dei circoli, si dice di arroccamento, di passaggio, tra le vene paraombellicali e le vene pigastriche. Questo succede quando c'è un'ostruzione di una vena importante, profonda, che è per esempio la vena porta del fegato. Allora, in questo caso si formano dei circoli di arroccamento perché con la formazione di quello che va sotto il nome di caput meduse. A questo punto invitiamo la paziente a fare dei respiri profondi. Fuori l'aria? L'addome immobile agli atti del respiro. Qualcuno potrebbe rispondere certo, grazie. Perché questa manovra? Perché se Simona avesse avuto un processo doloroso in atto o una patologia importante, per esempio con risentimento peridoneale, non ce l'avrebbe fatta a chiudere, a fare tutto il respiro profondo. Perché il movimento del diaframma nell'ispirazione, portandosi verso il basso, avrebbe sicuramente compresso i visceri addominali e magari ha aumentato una situazione di irritazione peridoneale, di dolore di irritazione peridoneale e quindi Simona avrebbe interrotto il suo respiro profondo. In questo caso Simona può fare il suo respiro profondo tranquillamente e quindi non c'è niente da eccepire, niente da redigere con particolare significato in un'eventuale cartella clinica. Passiamo quindi alla palpazione. Mano sempre a piatto, sull'addome quanto mai. La palpazione è un elemento fondamentale. Ricordatevi che sul torace la palpazione, come potrete vedere, se osserverete il video sull'esame obiettivo del torace, noi non possiamo palpare i polmoni, gli organi interni del torace. Possiamo soltanto eseguire quelle manovre che potrete osservare. Nell'addome invece noi possiamo effettivamente palpare in maniera superficiale e in maniera profonda i tessuti e i visceri interni perché non c'è una gabbia toracica che lo impedisce. A parte le zone, come abbiamo visto, dell'ipocondio sinistro, al di sotto del quale, ripetiamo, c'è la milza e il fondo gastrico, e l'ipocondio destro e sotto le coste della regione dell'ipocondio destro c'è soprattutto la parte destra del fegato, ma comunque anche parte delle porzioni sinistre del fegato. Allora, la palpazione si può cominciare da qualunque quadrante e la palpazione tende a evidenziare la presenza di un dolore oppure a evidenziare la presenza di tumefazione. Vedete, una cosa che ha fatto Simona, appena io ho toccato Simona ha avuto una contrazione. È bello questo, perché è normale, io adesso la mano non so se era un po' fredda, forse l'ho fatto troppo velocemente, può darsi, non so, oppure la temperatura era diversa. Appena io ho toccato Simona ha contratto subito e chiaramente in questo caso io mi sono fermato, non ho iniziato subito la palpazione, perché sennò avrei notato una resistenza, seppur fugace, seppur transitori. Adesso lo faccio con più calma, la mano forse è pure più calda, Simona non contrae. Vedete? Faccio una palpazione superficiale, se Simona ha dolore me lo dice, ha dolore? Non c'è dolore. Ecco la palpazione in tutti i vari quadranti. Non sento niente di particolare. A questo punto faccio la palpazione profonda. La palpazione profonda su Simona la posso fare anche con una mano sola. Perché dico questo? Perché se il paziente è molto paziente corpulento, paziente o paziente maschio o femmina, è corpulento, molto grasso, io non ce la farei con una mano sola andare in fondo. Allora dovrei fare una palpazione bimanuale in questo modo. Se spingo molto e faccio la palpazione bimanuale alla Simona esco dall'altra parte e non è bene farla. Allora farò la palpazione bimanuale con una mano sola. Un altro accorgimento, Simona adesso ve lo farà vedere, però non c'è bisogno che in Simona non ne avrei bisogno. Un paziente che ha una... Ecco, mettiamo che il paziente avesse continuato ad avere una sorta di resistenza, una muscolatura molto importante, molto forte, io avrei invitato il paziente a piegare le ginocchia così e ad allargarle una specie di posizione ginecologica, una specie ecco rilasciata. Ma per Simona dicevo non c'è assolutamente bisogno. Quindi palpazione profonda, Simona rilasciata. potete vedere come effettivamente la mano si muove per l'impulso della pulsazione aortica, perché in questo caso io sono esattamente nella regione mesocastrica, quasi al centro della regione mesocastrica, sotto ho la orta e si vede che la mano si muove per la pulsazione aortica perché è molto magra, Simona. Comunque, non sento, non evoco dolore mi pare e non sento nemmeno delle tumefazioni, questo è importante. Se avessi sentito delle tumefazioni è sempre la solita storia, avrei dovuto rilevarne le caratteristiche. Quindi la sede, la superficie, se è liscia o meno, la consistenza che può andare da una consistenza molle, teso, elastica, se si tratta di una formazione con delivio, addirittura fluttuante, se questa formazione dà l'idea proprio della fluttuazione, del fatto che le dita si possono approfondire quasi, possono modificare nella superficie, oppure può essere duroligna, durofibrosa o duroligna, oppure una tumefazione che abbia la consistenza di un viscere, quindi di tipo parenchimatoso. Poi dovrei definirne i limiti, nel senso che la tumefazione è ben definibile dal contesto degli altri visceri addominali, oppure i margini possono essere frastagliati o meno, o ben definiti. Dovrei definirne la dolenzia, la pulsatilità e come al solito la spostabilità. Una tumefazione addominale può essere spostabile passivamente. Da ultimo dovrei valutare la mobilità di una tumefazione addominale, ripeto, non c'è nessuna tumefazione, però se ci fosse mettiamo a livello del fianco sinistro e dovrei valutare la mobilità di una tumefazione in senso passivo sui piani profondi e superficiali, tumefazione spostabile, oppure potrei valutarne lo spostamento in sincronia con gli atti della respirazione. Ecco quindi questo mi può dire se ho a che fare con una tumefazione mobile o comunque una tumefazione fissa o una tumefazione che si muove con un atto fisiologico come la respirazione. A questo punto passiamo alla percussione. La manovra è sempre la stessa, la mano che funge da plessore, il dito che percuote è più aderente alla parete addominale vedete non lo posso alzare e gli altri sono molto più morbidi per non interrompere l'onda sonora. Questo è il dito che fa da plessimetro e percuote sul plessore. La percussione va fatta perpendicolarmente di solito dai quadranti superiori ai quadranti inferiori ma si può fare anche in maniera raggiata dall'ombelico vedete in tutte le direzioni. Di solito i medici la fanno così. Ma lei che è un chirurgo allora i chirurghi la fanno in questo modo dall'alto e in basso. i clinici medici la fanno raggiata. Allora cosa posso evidenziare con la percussione? In questo caso evidenzo il normale timpanismo enterocolico vedete c'è quel po' d'aria è normale. Percuotendo dall'alto e in basso potrei però per caso evidenziare un'aria di ottusità che farebbe emergere che c'è di solito del liquido liquido ascitico. Non è certamente il caso di Simona però in questo caso avrei la sensazione suono di impanico suono di impanico suono di impanico qui avrete il suono ottuso che chiaramente non ho. La stessa cosa magari avrei dall'altra parte. Per vedere se un eventuale suono ottuso che io evidenzio in fossile lega destra rimane tale e quindi è un liquido spostabile o meno potrei invitare ma non lo fare Simona a mettersi sul fianco sinistro perché un'ottusità che mi scompare vuol dire che siamo in presenza di liquido libero in addome e quindi effettivamente di ascite. Su Simona è inutile farlo perché Simona il liquido non ce l'ha. Passiamo adesso all'ascoltazione. Con l'ascoltazione col fonendoscopio io posso sentire poggiare il fonendoscopio in tutti i quadranti e sentirò quello che si chiama i movimenti peristaltici che sono dei borborigmi armonici che si susseguono a forma di onde proprio per e proprio che io posso anche evocare con dei piccoli movimenti del fonendoscopio sull'addome. Simona sento benissimo i movimenti peristaltici ha una peristalsi presente e valida e coordinata. In alcuni casi si può trovare una peristalsi che non è assolutamente coordinata in alcuni casi si può trovare un silenzio ascoltatorio nel senso non c'è più il movimento intestinale in altri casi il che avviene per esempio in caso di un'occusione intestinale ma avrei anche altri parametri chiaramente da valutare palpatoriamente e percussoriamente potrei notare quelli che si chiamano i suoni con timbro metallico lo sia come di una goccia che cade all'interno di un'anfora dovuti a movimenti anche di pochissimo liquido all'interno di un'alse intestinale che rimbomba perché ripiena di gas non è certo questo il caso di Simona però a questo punto dobbiamo fare delle valutazioni particolari dal punto di vista sia palpatorio che percussorio che ci consentiranno la delimitazione e determinazione di organi importanti come il fegato come la milza come i reni e poi faremo anche delle valutazioni delle manovre di tipo palpatorio che possono essere patognomoniche per alcune patologie con l'ausilio di manovre sia palpatorie che percussori combinate io posso adesso passare alla delimitazione di alcuni importanti vis come il fegato come la milza come il rene e per la determinazione del fegato che come abbiamo detto è un organo che si trova nell'ipocondrio destro completamente praticamente al di sotto della parete costale possiamo determinare il margine superiore attraverso la percussione che avviene lungo la linea miclaveare o al limite lungo anche lungo la linea parasternale che sta praticamente tre centimetri lateralmente rispetto ad una linea ideale che va dalla che passa praticamente per la porzione mediale dello sterno la farò sulla linea emiclaveare vedete qui ho un suono iperfonetico suono sul polmone suono iperfonetico suono iperfonetico suono iperfonetico e siamo a livello di una ipofonesi quindi qui siamo praticamente a livello del margine superiore del fegato a che spazio intercostale saremo? molto semplice questo è il punto di passaggio tra il manubrio dello sterno e il corpo dello sterno al lato matematicamente c'è il secondo spazio intercostale quindi qui c'è il terzo spazio intercostale qui c'è il quarto spazio intercostale qui c'è il quinto spazio intercostale ecco che il margine superiore del fegato il limite superiore del fegato sta a livello del quinto spazio intercostale voglio palpare il margine inferiore del fegato il margine inferiore del fegato lo devo palpare a livello addominale perché se lo palpo perché il margine inferiore del fegato di solito non si palpa se non forse nelle profonde ispirazioni ma se lo palpo lo palpo a livello proprio dell'arcata costale invitando Simona a fare una respirazione profonda ammettiamo che io non stia facendo una visita a Simona ammettiamo che io stia facendo una visita a un paziente in cui sospetto un epato megalia un aumento di volume del fegato comincio a fare questa valutazione a livello della linea ombricale trasversa perché il fegato potrebbe essere addirittura qua giù il margine inferiore del fegato e allora devo fare in questo modo per respiro profondo il fegato non c'è fuori l'aria avrei sentito per respiro profondo il fegato non c'è per respiro profondo il fegato non c'è per respiro profondo e il fegato non c'è il fegato di Simona sta completamente al di sotto delle arcate costali qualche volta si palpa effettivamente il fegato non all'ombricale trasversa ma è frequentissimo trovare il fegato lievemente aumentato di volume in questo caso se io palpo il margine del fegato un po' aumentato di volume avrò l'accuratezza di vedere di quanto deborda dall'arcata costale un dito trasverso due dita trasverse e poi valutarne le caratteristiche margine aumentato di volume margine con delle tumefazioni insomma vedo se oppure è un margine parenchimadoso un fegato normale che è soltanto poco poco ingrandito per quanto riguarda la milza devo per forza invitare Simona a mettersi sul fianco destro ecco puoi farlo per favore completamente sul fianco destro brava come se lo sapessi con le gambe leggermente così flesse ecco qua e la braccia in alto in un altro video potrete vedere che esistono tre linee nel torace laterale la linea ascellare posteriore che va dai muscoli dorsali e scende verso il basso la linea ascellare mediana che va dal punto di mezzo dell'ascella e scende verso il basso la linea ascellare anteriore che si dimeglie così dal muscolo grande e pettorale e scende verso il basso perché questo perché io per vedere la milza devo fare una percussione che va lungo queste linee ascellari perché il polo superiore della milza io me lo aspetto a livello del nono spazio tra l'ascellare anteriore e l'ascellare media il polo inferiore della milza me lo aspetto all'undicesimo spazio tra l'ascellare media e l'ascellare inferiore polmone polmone milza e dovrei fare lo stesso calcolo ma comunque siamo praticamente intorno alla nona ottava nona ecco vediamo un pochettino se vediamo il polo inferiore eccolo qua vedete questa è di nuovo ottustità adesso riportiamo Simona nella posizione guante gambe giù faccio lungo il corpo rilasciata potrei teoricamente palpare anche il polo inferiore della milza e anche qui dovrei sempre pensare che il paziente può avere una splenomegalia una milza aumentata di volume allora comincio a palparlo dall'ombelicale trasversa per respiro profondo fuori l'aria per respiro profondo fuori l'aria per respiro profondo fuori l'aria il polo della milza di Simona non c'è tutti a dire ma non c'ha nel fegato nella milza no non si palpa perché non c'ha nessun aumento di volume della milza e in una persona normale il polo della milza non si deve palpare se lo palpassi il polo inferiore della milza dovrei anche qui valutarne le caratteristiche qualche volta si sentono addirittura le scissure spleniche sapete che la milza è un organo che ha delle scissure nel contesto del suo parenchima e dovrei dirne le caratteristiche se è aumentato di volume se ci sono tumefazioni a livello del polo inferiore ma non è certo il caso di Simona un'altra manovra palpatoria particolare è la palpazione del rene che presuppone una manovra bimanuale Simona è magra una fortuna il rene guardate non si palpa veramente quasi mai anche se una persona non è grassa ma è così normale Simona è magra quindi il rene lo sentiremo e guardate che si palpa quasi sempre la porzione medio inferiore del rene difficilissimamente si palpa tutto il rene soprattutto a destra un po' meno a sinistra come si fa? si mette la mano no no senza tranquilla la mano nella regione lombare altra mano sul fianco ecco io già lo sento però bella ispirazione fuori l'aria bella ispirazione trattenga l'aria ecco qua facendo questo movimento un po' di vai e vieni mano sopra mano sotto io riesco a sentire il rene di destra fuori l'aria per curiosità vedo se si può sentire il rene di sinistra non c'è bisogno di spostarsi in questo caso rilasciata trattenga l'aria ecco qua anche qua si sente il rene di sinistra respiri per ricordarsi dire al paziente di respirare ci sono due manovre che si possono aggiungere alla palpazione del rene se io trovo un rene molto aumentato di volume potrei cercare di capire se un'atomefazione che io palpo in questa sede sia corrispondente all'aumento di volume del rene e quindi sia una massa renale oppure no a dire il vero adesso in epoca di ecografia di tac eccetera sono manovre un po' desuete comunque certo se io provo a fare questa manovra bimanuale per l'identificazione del rene e trovo una massa che a mio avviso ingombra completamente la regione lombare dico che c'è contatto lombare oppure c'è ballottamento così adoro dei colpettini posteriormente su questa massa e li sento sulla mano controlaterale questa è la manovra dell'eventuale ballottamento di una massa che Simona non ha io sento solo il rene piccolino normale non c'è nessun problema poi anche il fatto che lei non abbia dolore durante la palpazione del rene è sintomatico né a destra né a sinistra è sintomatico perché non ci sia nulla di preoccupante passiamo adesso ad alcune manovre semeiologiche particolari palpatorie intendo praticamente fare quella che va sotto il nome di manovra di marfi serve a rilevare se c'è un dolore in corrispondenza del punto colecistico dov'è in emiclaveare all'incrocio con l'arcata costale subito sotto io ecco metto la mano vedete le dita proprio sotto l'arcata costale qui dovrei stare in corrispondenza del diciamo della zona della colecisti e adesso inviterò Simona a fare un respiro profondo qual è il gioco se Simona non riesce a fare il respiro profondo lo interrompe e ha dolore evidentemente ha una patologia della colecisti se questo non succede la patologia non c'è bere spiro profondo Simona ha un poco poco di dolore sorpresa bere spiro profondo ecco Simona ha un poco poco di dolore ha un marfi con un segno più e alla fine di questa visita noi consiglieremo a Simona di fare una geografia epatobiliare sicuramente questa è un po' una sorpresa ma però fa bene e andiamo avanti vediamo se c'è qualcos'altro a questo punto visto che deve fare l'ecografia andiamo avanti andiamo avanti e vediamo se c'è ma già lo so il segno di Courvoisier nel senso che praticamente nella stessa regione io dovrei palpare una tumefazione a forma di banana di solito che è dovrebbe essere una colecisti aumentata gonfia aumentata di volume questo però succede non quando c'è stata una calcolosi della colecisti pregressa ma quando c'è un ostacolo al deflusso della bile per altre cause molto più gravi quale può essere per esempio un tumore del pancreas che occlude la via biliare e che non è stata preceduta da un'etiasi della colecisti perché quando c'è un'etiasi della colecisti di solito le pareti della colecisti diventano sclerotiche e la colecisti non si palpa quindi non c'è il segno di Courvoisier vediamo se c'è il segno di Schofarri-Ve anche qui dobbiamo andare a un richiamo di anatomia linea sifo-ombelicale linea ombelicale trasversa bisettrice la porzione interna che è una porzione epimesocastrica e la zona in cui noi possiamo palpare una dolenzia un dolore dovuto a una sofferenza della regione pancreatico colledoscica vediamo niente o anche lutenal per esempio niente un'altra manovra palpatoria normale è la ricerca della dolorabilità o della evocazione del dolore nel punto di McBurney e il punto di McBurney è un punto che si trova se noi tracciamo una linea tra la spineliaca anterior superiore e l'ombelico nel terzo medio o terzo esterno più o meno qua e si trova un punto sotto al quale c'è la regione cieco appendicolare ora è chiaro che io faccio questa manovra il dolore non c'è nessun dolore e Simone è stata appendicettomizzata per carità ci può essere un dolore che parta da un problema al cieco però certo lei non può avere un dolore di carattere appendicolare perché come ben sappiamo l'appendice una volta tolta non ricresce e passiamo poi alla manovra di Bloomberg la manovra di Bloomberg è una manovra che ci può evidenziare una iniziale sofferenza peritoneale è una manovra clinica importante importante perché prima che si evidenzi una difesa peritoneale importante che porterebbe al rilievo di resistenze palpatorie proprio prima di evidenziare questo noi possiamo evidenziare una iniziale area una zona in cui c'è un iniziale interessamento peritoneale magari per una infiammazione che sta crescendo e allora la manovra come si fa si affonda una mano nell'addome dolore senza avvisare la paziente importante la si lascia improvvisamente dolore bisogna prendere sempre in questo caso i pazienti all'astrovvista perché se no io lo dico prima non viene a mancare perfetto dolore no né premendo né lasciando perfetto una nuova di Bloomberg negativo adesso vediamo se c'è la dolorabilità dei punti ureterali uretere viene dal rene chiaramente scende proiettivamente verso chiaramente la vescica e un dolore tipo colica renale di solito è un dolore che dalla porzione lombare o tutta al più del fianco tende a radiarsi proprio lungo il decorso dell'uretere fino alle grandi labbra nella donna o allo scroto nell'uomo differenza come sappiamo un dolore di una colica da calcolosi del via biliare è un dolore che dall'ipocondio destro di solito va si radia verso l'alto verso la spalla ecco una diagnosi differenziale che a destra è fondamentale a sinistra chiaramente non c'è la cistivelle non ci può essere una colica biliare le ultime cose che dobbiamo dire e fare per completare l'esame obiettivo dell'addome riguardano essenzialmente il completamento dell'esame obiettivo dell'apparato renuleterale dobbiamo infatti valutare la dolorabilità a livello dei punti pieluleterali superiore e medio per valutare la dolorabilità dei punti pieluleterali superiori noi dobbiamo effettivamente ricondurci alla linea ombelicale trasversa andare 4-5 cm a destra o a sinistra dell'ombelico e quindi ecco pigiare c'è dolore? no per i punti pieluleterali medi linea bispinoliaca spinoliaca anteriore superiore la linea di congiunzione al margine esterno del muscolo retto per evidenziarlo manovra di valsalva per favore eccolo basta fa male qui manca una sola manovra per completare proprio l'esame obiettivo dell'apparato renuleterale ed è la manovra del giordano invitiamo quindi la nostra paziente a sedersi con le gambe in fuori leggermente piegata in avanti così io adesso darò un colpo con la regione unare della mano sulla regione lombare di Simona che cosa succede? Simona avrà sicuramente un dolore dal mio colpo però è importante che il dolore non rimanga non sia violento e poi non permanga per molto tempo dopo il mio colpo secco che darò adesso alla regione lombare quindi la manovra del giordano è negativa ricopriamo Simona grazie dell'attenzione e come al solito potrete contattarci sugli usuali canali di comunicazione grazie a tutti grazie a tutti